Qual è il posto della poesia? Dentro o fuori il mondo editoriale? Qual è il valore di un impegno della poesia nel cuore di una città? Quali sono le risorse poetiche della regione? A queste domande si è cercato di rispondere alla Maratona Letteraria, che si è tenuta sabato 10 maggio nella Sala Argento del Salone del Libro. L'incontro è stato utile per conoscere più da vicino l'ecosistema della poesia nel nostro territorio, per scoprire le nuove forme cui attinge sentirne la voce, attraverso declamazioni, video, registrazioni di letture, poesie sonore, poesie visuali e performance.